Il gruppo degli sbandieratori di Gela è stato premiato dal sindaco di Medina con una targa in occasione del festival medievale in cui sono stati invitati a rappresentare la Sicilia. Un evento internazionale che ha dato agli sbandieratori gelesi la possibilità di confrontarsi e conoscere nuove realtà della federazione storica. Una grande, bella esperienza questa che avete vissuto a Malta, un bell'invito che vi è raggiunto dalla comunità storica. Assolutamente, è stata uno degli eventi più belli e formativi che ci portiamo dentro. Grazie alla federazione storica di cui noi facciamo parte, che ci ha permesso questo ingresso in questa venda internazionale, abbiamo fatto anche un'ottima comunione con alcuni gruppi, vedi per esempio Algo Priolese di Priolo. La cosa più bella in questa occasione è stata di poterci confrontare, perché ovviamente facciamo tanto lavoro in Sicilia, però non avevamo mai avuto modo di poterlo far vedere e vedere insieme ad altri. Il risultato è sicuramente da rifare. L'esperienza, ora la faremo raccontare a una delle nostre sbandieratrici, a Giovanna, perché formativa? Per il semplice fatto che potersi confrontare con altri gruppi, potersi esibire in una città bella come quella di Medina, sicuramente in una location così particolarmente medievale, perché tipica medievale, ha dato gli ottimi risultati. Si è visto anche perché tutti i giornali della zona ne parlavano di lungo e largo, tutti gli sbandieratori venivano fermati continuamente, ma continuamente venivano verso la parola, non riuscivano a stare sereni, perché volevano farsi tutte quante fotografie. Ma al di là di questo, le esibizioni fatte nelle varie piazze sono state un gran successo, al punto che l'organizzatrice di là ci ha contattati per fare anche tre matrimoni, cosa inusuale, però era così bello, così coreografico vedere queste bandiere con la scritta comune di Gela sventolare nei cieli di Malta, che ci ha dato questo risultato. Un viaggio immersivo attraverso il villaggio storico medievale di Medina, con mercanti, artigiani, falconieri, scherma storica, spettacoli, degustazioni, corteggio, e tanto altro. La grande famiglia storica siciliana itinerante continuerà a vedere l'ingresso di altri gruppi, che aumenteranno la qualità dei vari festival storici medievali e multiepocali previsti in futuro. È stato meraviglioso e la parola d'ordine era chiaramente socializzare, perché c'era gente di ogni nazionalità e ci siamo spesi totalmente con ogni risorsa veramente umana nostra, perché si soffriva molto il caldo.